Il crollo del Teramo contro il Monopoli è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso che alla fine si è rotto. Manca il crisma dell'ufficialità ma il presidente Franco Iachini ha deciso per il dopo Tedino la squadra sarà affidata al responsabile del settore giovanile Ceteo Dimascio. Scelta in questo momento forse più logica perché Dimascio è arrivato in estate insieme a Tedino e dunque conosce e condivide il progetto calcistico biancorosso non solo ma in questo momento del campionato prendere un altro allenatore servirebbe relativamente anche per via di una classifica che è difficile migliorare in modo sensibile. Molto meglio lavorare dall'interno per ricompattare l'ambiente e centrare l'obiettivo minimo dei playoff. Si diceva della misura colma avvenuta dopo lo 0-3 del Bonolis contro il Monopoli. Per la verità critiche sul tecnico erano piovute anche prima per la mancanza ad esempio di gioco nelle trasferte. Quindi le quattro vittorie in sei partite nell'anno nuovo avevano un po' placato le acque per ridiventare agitate e vorticose dopo il rovescio con il Monopoli. Squadra forte e avvezza i blitz esterni, ben nove i colpacci ma agevolata anche da alcune scelte tecniche discutibili. Lo abbiamo già scritto in sede di commento a fine partita. Perché rinunciare in partenza a Magnaghi, unica vera punta in organico, cambiando di fatto il modo di giocare davanti a provare a pungere il solo Bombaggi, bomber della squadra ma non prima punta. E come per uno scherzo del destino lo spartito della gara cambia subito e si mette di traverso il Teramo. Il Monopoli segna due gol in 12 minuti approfittando di una difesa sbadata e imbalsamata. Quindi Teramo a testa bassa nel tentativo di segnare almeno una rete per riaprirla ma gli ospiti rischiano poco senza contare che davanti la forza penetrativa bianco-rossa è pari allo zero. E così nel finale di tempo l'ennesima dormita generale su corner consegnano terzo gol e partita al Monopoli. nella ripresa subito dentro Magnaghi e Piacentini per Mungo e Viero, quest'ultimo forse il migliore del primo tempo ma è troppo tardi. La squadra pugliese controlla bene la partita. Il Teramo potrebbe segnare una rete con Bombaggi ma la gara è oramai compromessa. Elegante e lucida fine gara la sintesi del tecnico ospite Scienza. Io credo che il risultato sia un po' troppo severo. Il Teramo nel primo tempo ha avuto un momento che ci ha messo in grande difficoltà. A mio avviso non vorrei passare per il retorico ma è una delle squadre più forti tecnicamente del campionato. Difficilmente abbiamo subito un giro palla e un palleggio da una parte dall'altra così vemente, così preciso. Forse non avendo un terminale offensivo sui tanti cross che hanno messo li ha un po' danneggiati ma non so, sono delle motivazioni di sicuro. Però il Teramo lo sapevo che gioca bene e che noi in questo momento siamo molto tosti. Però ripeto, il Teramo ci ha messo in difficoltà. È un risultato che non deve sviare per quello che riguarda noi dalle difficoltà che ci ha creato questa squadra nel primo tempo.